buonasera a tutti belli e brutti aug sono il capo indiano ciotto per un testa di minchia visto che voglio dire a questa testa di minchia qui è vero io sono ciotto ma a differenza tua a casa mia si mangia e tu sei dell'africa grande rispetto per i bambini dell'africa è però hanno condizioni di vita molto particolari quindi tu fai parte di questi poi se la tua ragazza quando scopa con te tocca le ossa a me tocca la carne capito bimbo minchia dell'africa poi un'altra cosa voglio dire ho scritto una poesia dedicata la poesia si chiama il piffero di water la vita si brucia lentamente come un fiammifero vieni con noi water ti facciamo suonare il piffero tu sarai la mia musa non vuoi suonare il piffero c'è la cornamusa la musica è come il cuore pompa se vuoi c'è anche la tromba e se la musica ti arriva dentro ti facciamo suonare bonghetto e frischietto voglio dire un'altra cosa prima che si conclude qui questo video le mamme i padri le sorelle non si mettono in mezzo perché non sapete dall'altra parte le mamme se sono morte sono vive se sono malate non sono malate imbaratevi a parlare facciamo come fatto il maestro senza fare i nomi tanto sapete non chi è chi rompe un cazzo noi lo bagniamo ci cancelliamo il canale subito via via chi dice i parolacci via infatti già ne abbiamo fatto tre questa settimana via via se ne devono andare via questi cornuti via capito di schietto fastidio non si dicono le parole mostrate parlando con me ma voi non sapete mia madre come sta se è vivo o morta o se è malata grandi deficienti perché siete così siete come il cesso perché lei non dice i parolacci sapeva mamma lei non mi ha detto parolacci a nessuno le mamme mi toccano facci di schifo e non voglio parlare male dei salentini però mio caro tu che sei salentino e si vede da come schifo imbarati prima cosa vai a scuola imbarati a scrivere che non si salentino e non si scrive non salentino capito deficiente io c'è il terzo superiore tu il quinto superiore se ce l'hai perché mi sa che sei il quinto superiore del cesso no il quinto elementare mi sa scusa ma la quinto elementare dove l'hai presa do di x a item di mussolino vero mi faccio una risia una risata quando parlate imbaratevi a collegare la bocca al cervello perché siete stupidi e ignoranti tiene ragione il nostro maestro che siete stupidi e ignoranti le critiche si fanno costruttive no che i parolacci sapevamo le mamme i morti non si toccano specialmente i morti specialmente perché se mi toccate i miei morti eh mi dispiace ma poi i morti sono come i morti vostri quindi rispetto per le persone che noi non stiamo scherzando se hai un problema con me vieni me la dire in faccia tu che hai zero video e zero e zero iscritti polimone si può blovolare oltretutto si pure inderisti quindi non è che no va bene non è il fatto di essere inderisti o non inderisti perché anche il nostro maestro inderista io non tifo né inder né uve non penso al pallone perché vedere quattro testa di cazzo che corrono dietro al pallone e se buscano tanti soldi a me non me ne frega niente però come ha detto all'inizio è vero sono sciolto casa mia si mangia a casa tua no se vuoi vieni qua che ti fa smaccare una rucola e patate le patate di zapponetta ma comunque ma la vita salentino va bene ragazzi le parolacce non si dicono né sui morti né sulle mamme e tutte cose faccio a pulire il culo salentino faccio di questo non parlo aspetta voglio ribadire una cosa non parlo di tutti i salentini perché non tutti sono uguali uno in particolare sto parlando di una persona ma ciao 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 faccio di questo non guardate commenti costrutti e minacciami un'altra volta io ti denuncio ti banno ti cangeri no io ti denuncio proprio lui ti banno io ti denuncio ciao ciao